Dopo il successo della scorsa primavera, torna al Cinema Teatro Politeama di Piacenza Legally Blonde, il noto musical di Broadway portato in scena dalla compagnia teatrale I Viaggiattori di Piacenza. L'appuntamento è per venerdì 24 novembre. La bionda Elle Woods, questa volta sarà interpretata da Elisa Dal Corso. La storia di questa bionda, la classica Barbie, un po' superficiale, adora il rosa, lo shopping, i Chihuahua, che si prepara, diciamo all'inizio dello spettacolo, si prepara per la proposta di fidanzamento del suo fidanzato, appunto Warner, ma che non va a buon fine perché la sera appunto Warner la lascia invece che chiedergli di sposarla. La lascia perché è troppo poco seria e lui deve andare ad Harvard a fare legge. Quindi Elle, veramente un esempio di determinazione, decide di dimostrare a Warner, a se stessa, e al mondo che lei non è quella che appunto apparentemente dimostra di essere. Cosa rappresenta per te la recitazione? La recitazione è grande, grandissima parte della mia vita. Io ho iniziato in realtà come cantante e poi grazie ai viaggiattori, principalmente grazie ai viaggiattori, ho scoperto il mondo della recitazione unita al canto, quindi del teatro musicale. Io sono Brooke Windham e sì, Brooke Windham è appunto la regina del fitness, è famosa per i suoi DVD in cui insegna come dimagrire e lei viene accusata, ingiustamente, dell'omicidio del marito. Come recitare in questa compagnia ai viaggiattori? È bello ma è anche una grossa sfida perché ci viene sempre chiesto di interpretare un ruolo che a volte non è proprio magari il tuo, quindi sì è stata una sfida anche per me questo ruolo da regina del fitness perché io non mi vedo una regina del fitness, però insomma essere attori è anche quello, arrivarci pian pianino con l'aiuto del regista, di tutte le persone che fanno parte della compagnia. Il spettacolo Nono Polet, anche se questa volta andrà in scena Annalisa Missieri in questo ruolo, che è la parrucchiera un po' svampita che aiuta poi a capire qual è la vera strada. La regia e le coreografie sono a cura di Dario Caldini, la compagnia nata nel 2008 alla Besurica non si ferma, subito dopo lo spettacolo inizierà la preparazione del nuovo musical del 2018, Sister Act. È molto impegnativo e noi scegliamo sempre musical molto corali, questo è quello che contraddistingue la compagnia, noi siamo tanti, siamo quasi 50 e quindi a noi fa piacere che ci siano più persone possibili in scena, è il nostro modus operandi, noi vogliamo che tutti facciano parte di questa grande famiglia. Sister Act è una grande sfida, la compagnia è prevalentemente fatta di donne e quindi una volta che abbiamo avuto la possibilità di acquisire i diritti perché liberi abbiamo subito chiesto e la sfida inizierà breve.